Come avevamo detto fin da principio, già con la legge di stabilità avevamo stanziato queste importantissime risorse, siamo l'unica regione in Italia ad averlo fatto, per dare ai cittadini un nuovo stadio, uno spazio finalmente all'altezza del tifo che i sardi possono dare alla propria squadra del cuore. È un esito che si è concluso oggi con l'adozione di una deliberazione, nella sottoscrizione che ci sarà a breve dell'accordo di programma e voglio preannunciare che ritengo giusto e per questo abbiamo presentato come giunto un emendamento all'interno della variazione di Baliancio in corso che almeno altrettante risorse possano essere destinate all'impiantistica sportiva regionale per le altre squadre delle città della Sardegna e per il mondo del dilettantismo che comunque ha nello sport una funzione sociale importante che è riconosciuta da un'apposita legge regionale. La scelta della regione è stata fissata nel momento in cui si è approvata una legge che stanziava queste risorse. Prima di poter sottoscrivere gli atti conseguenti era necessario un percorso amministrativo e burocratico che oggi ha trovato la sua prima conclusione e che andrà a trasferire al Comune di Cagliari gli importi con l'accordo di programma, dopodiché sarà onore ed onore del Comune di Cagliari regalare in tempi rapidi questa nuova struttura a tutti i cittadini. Grazie Grazie